Sono 14 i nomi finiti nel registro degli indagati per la morte di Antonella Geraldi all'ospedale Sant'Elia lo scorso 6 gennaio, un atto dovuto da parte della procura nissena che ha iscritto 9 medici e 5 infermieri del Sant'Elia nel registro delle notizie di reato. Sarà il medico legale di Catania, Giuseppe Ragazzi, a sottoporre la 53enne all'esame autoptico. L'autopsia è in programma domani pomeriggio giovedì nell'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sarà uno dei momenti cruciali dell'indagine dei carabinieri, partita dopo l'esposto dei familiari della donna. Subito la magistratura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla sua morte. La Geraldi è arrivata in ospedale in preda a forti dolori addominali. Così nell'oreo successive è stata effettuata l'attacca. Poi sarebbe stato disposto l'intervento chirurgico. La morte della commerciante nissena ha destato profonda commozione in tutta la città, dove era stimata per le sue doti umane e professionali.